Il Dio è benvenuto a vostro ricco Il Pueblo di Aruba, il Dio 22 Mi invitiamo a venire fuori di Olanda Giugno di Razzola per cantare con voi per noi vogliamo glorificare il nome di Cristo e Gesù Il Dio 22 a nocci è una cassa di cultura i bambini passano a guardare per noi cantare uo 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 fredda per fredda teati bottagliere di lato di nostro paio Bancate ma è benvenuto per Aruba Il Dio è benvenuto il Dio 22 il Dio 22 è una cassa di cultura busco bucarci ma comunque da fare un solo presentazione mi temi in Aruba specialmente Pago